ahahahahah 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 mamma mia dai ma quanto ci muoette ecco sei uno scrotto un c**o di scrotto di m*****a oooh e quanti problemi ma perchè oh ok si sente ehi ragazzi e cade il joystick ehi ragazzi benvenuti e bentornati allo show oh Dixivnix ancora qua su Fonet a romperci le scatole siamo con il solito Xander che ha cambiato nome e adesso si chiama Clangore Stufo Clangore Stufo perchè mi fa pensare alle stufe elettriche alle stufe elettriche vi metto il link del suo canale in descrizione perchè è anche lui il canale e giochiamo in copie perchè in singolo non si può e mettiamo pronto ole dopo 30 anni caricamento ragazzi ragazzi siamo qui ovviamente ci mette anche qui 30 anni perchè devi trovare i giocatori tante storie ole ole dove andiamo? allora stiamo sul bus del malaugurio con l'autista più pazzo di sempre e andiamo dove ci stanno le sabbie dai che non sappiamo ancora che cos'è anche se non ci sono più le sabbie però eh vabbè quel posto lì un po' laggando ci stiamo buttando in mare e ci stiamo buttando in mare guarda che bello il mare e poi c'è una specie di tornado ma in fondo che boh è un tornado pazzo chissà cosa c'è ma ci sarà qualcosa di top secret? se vai addosso quello ti fa ti girutta via ah proprio fa ah proprio fa allora c'è ancora qua il congelatore e non si sa come mai qua sopra e non dentro ma vabbè e vabbè ma dai no e vabbè ma se non prendi l'ombrello figlio mio abbi pazienza bruttube bruttube mamma mia ragazzi questo è un tutorial su come morire da polli scappando da un nemico tu vuoi atterrare sull'ombrello per non prendere danno cosa fa? ci sale sopra e poi scivola per terra ma è normale sta cosa è normale ma beh che l'ho presa male io l'ombrello un altro discorso ma va pure toccato cioè voglio dire aspettiamo l'arrivo del clangore stufo ancora qui con la battuta mi fa pensare alle stufe elettriche onore alle stufe elettriche ragazzi onore eh onore alle stufe elettriche boh basta mi sono toccato oh arriva la stufa qua due di vita due di vita ragazzi due di vita mi è rimasto ah per fortuna c'ho dei pesci in mano quattro pesci in mano eh per essere precisi eh mangia i pesci mangi i pesci mangi i pesci dai datemi stengo delle penose che quello anno c'ho un cecchino e quello più stufe thank you bro thank you bro allora oh eh sì vabbè quella più penosa però dovevi dare armi eh ma sicuro no granate granate centomila granate no solamente tre tranquilli se avrei già fatto esplodere la nuova agenzia eh l'autorità ehi ma che ma no ma che sta succedendo ahhh ma ci credo che va così piano perché sto caricando un video eh grazie però eh maximnix è proprio un babbo ma io sto laggando perché c'è mio fratello che si sto guardando un video sto laggando come la schifezza perché sto caricando per la seconda un video perché dopo problemi tecnici che fai? vuoi che non lo carichi per una seconda volta? perché ci sono problemi tecnici eh problemi soliti di youtube li conoscete no? perché per una piccola caccata di un secondo già devono arrivare i reclami giustamente no? e allora modifica il video ricaricalo ehhh la madonna sbattimento di scatole volete farmi un reclamo anche per questo ragazzi? spererei di no grazie grazie per la collaboration ragazzi ma la vedete anche voi quella rampa lì un po' strana? io direi lasciamoci la granata perché almeno così se c'è qualcuno sopra magari esplode eeeh si eeeh si eeeh non c'è neanche arrivata ma va che mira un'altra pistola? ma stiamo scherzando no ma adesso magari riesco a farla saltare eh? magari c'è anche un jump sopra ma chi lo sa uh oddio allora qua cosa c'è? niente? niente di niente? ragazzi ma siamo seri? non c'è veramente niente qua eh? sto laggando oh se veramente non trovo armi forse trovo ancora una un'altra pistola ancora ancora solo che è verde questa mamma mia c'è veramente tutta la partita senza armi decenni un'altra pistola uguale a quella che ho in mano adesso più altre 18 munizioni per la pistola oh signor oh forse ho trovato qualcosa eh? ah dai altre pistole eh? ah no però vampa vampa schifo c'è eh? oh signor ragazzi ma che partita no a me serve un pompa un dannato pompa e poi ho loot per fare no 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 ti prego ti prego no uno squalo vabbè intanto dobbiamo giocare senza armi questa partita sprechiamo le munizioni del vampo a fucile va sei proprio oddio quando uno dice all'attacco un'altra pistolettina come quella di prima solo che è leggendaria ma che cos'è? oh io vado a prendere il fucile il fucile oh lo vedi anche tu questo cosa qui ma l'hai vista anche te questa roba qua? no è sparita è sparita nel nulla no no vabbè quando vedrai il video magari lo vedi è sparita nel nulla io andrei verso la andiamo verso la andiamo verso la safe va la safe zone aspetta che ho trovato anche la barca verso il ruolo veloce veloce stufa stufa elettrica veloce e la miseria ma guarda cosa fa quel coso lì è inutile che ci vai sei morto se ci vai infatti non ci vado infatti non ci vado infatti come mai ho preso la barca perchè sapevo già che dovevo scappare di botte ah ma io ho anche i robi qua eh ah solo 5? ma fai veramente pena perchè solo 5 mi ha dato quello coso lì non sta facendo il coso non sta facendo il coso l'avete io non ho toccato nessun tasto ha fatto switch e switch di qui e di là eh io non ho toccato niente eh ho visto la verso il safe vabbè andiamo verso il safe anche se no non costruiamo niente che adesso abbastanza mimetizzato così basta che non gli spari basta che non gli spari basta che non gli spari non lo spari sali 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 saliii saliii oh la stupa elettrica finalmente ce la fa è sparito e siamo a parco pacifico è ficcata parco pacifico però eh direi che ho fatto parcheggio perfetto fosse stata parcheggio perfetto challenge avrei anche vinto eh ok buttiamo guarda quanta bella monnezza qui eh un po' come il mio lag un po' come la mia connessione eh allora ragazzi voi non lo state vedendo ma sto pingando come non lo so 400 di ping eh 400 di ping e qua in casa c'è solamente collegato il mio computer che sta caricando un video il video dello scorso episodio di Fortnite comunque eh quello lì sperando che non succedano altre cose problematiche come è già successo eh vabbè intanto se mi seguite su Instagram vi metto anche la parte intera di quella parte lì che ho dovuto modificare almeno lì non dovrei correre problemi problemi musicali insomma eh io andrei già verso la safe zone eh un attimo che vado all'interno sto tizio qua vado ah eh non vedevo neanche più la barca che avevo parcheggiato dai ma mi sono incastrato mi sto cercando di uscire dal parcheggio qua oh ma pur si che non trovo una mazza qua mamma mia e dai mi prende neanche le cose ah c'è un tizio eh non so se lo vedi che mira di mercoledì oh anche se è sabato oggi voi lo vedrete allora per voi ragazzi sarà lunedì però per me è sabato eh che lunedì ci sarà anche un altro video se tutto va bene eh quindi avrete due video lunedì felici? eh come no secondo me mi state augurando le peggio cose possibili immaginari ragazzi perché io so eh qualcuno sicuramente lo sta facendo allora il tizio guarda come scappa il tizio guarda va a stile delfino proprio ma dov'è? eh da qualche parte che sta andando verso quella casona madonna salta proprio ciocchino ha fatto un saltino da lag madonna santissima ha detto allora ah guarda faccio prenderlo allora c'ho le munizioni che scarseggiano perché tanto si sa qua sto cercando di vincere senza armi quindi figurati e io ho la R con tre colpi e io ho la R con tre colpi un altro mappa fucile non si è tolta la roba non avete visto la mia kill di prima perché ovviamente mi si deve sempre interrompere la registrazione quando non dovrebbe farlo che dici finisco con la pistola o prendo qualcosa anzi le munizioni però me le prendo eh no 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 ma che c*****o la fa il gioco mi trasferisce da un punto all'altro morto? No, per fortuna, meno male E meno male Cioè, stavo schiattando malissimo E' proprio sciolto, sciolto Scioltissimo C'ho una bende, c'ho delle bende Tieni E mi spara Oh, ma c'era il coso delle bende E spara, io non lo so Ok che la mia connessione Che oggi è quello che è Per i motivi che vi ho specificato prima Perché se non avessi avuto quel problema lì A quest'ora Andava fluidissimo E invece no, mi tocca fare queste cose qua brutte Ma brutte, brutte Ma qua c'è un baule Ma tanto abbiamo capito Che ormai con la pistola è basta Il vampa Madonna se la agga Oh, apriti Prendiamo anche il fucile Tanto Tanto è un fucile inutile Quello lì che ho appena preso Praticamente ragazzi Se non lo avete ancora visto Quel fucile lì che ho appena preso E' uguale al pompa del nonno La velocità è uguale Solo che in più ha una carica Una carica che boh Una roba di decorazione basta Cioè non so se riuscite A vedere bene così ma Al massimo vi piazzo Una foto Sopra eh Così lo vedete meglio Cos'è? È blu No, 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 no Non posso, non posso Capi, capi Potevi anche salire Eh, non ce la faccio Vabbè sali, sali Che tanto qua siamo Salvi Ole, ole, ole E andiamo a Turbarci La moto La moto Ciao La barca Aspettate che Siamo dentro l'autorità Eh Boh Aspettiamo il coso qua Tanto ormai sto giocando senza armi Vabbè oddio ce li ho ma Essenzialmente uso il vampa e basta Non prendo più nient'altro Fermo, fermo, fermo Sparando Sì vabbè stavo mirando Non mi spara Non sta connessione Palesemente Eh Devo andare a mangiare Eh vabbè finiamo Cioè Ce la facciamo finire Lo vedete lo scar? Ma visto che il titolo è quello che è Mi accontento della pistola Vabbè io lo prendo ma Non lo uso Mi devo accontentare la pistola ragazzi Se no Eh Che roba sarebbe senza pistola Eh Dobbiamo alternare un po' eh Dobbiamo essere diversi dagli altri Caspita Già ci sono Eh vabbè Costruzioni là Ma non so se c'è qualcuno Adesso arrivo ad aiutarti in qualche maniera Se riesco ad aiutarti giustamente perché Ecco Nel c'è spuglio Nel c'è spuglio Nel c'è spuglio Nel c'è spuglio Raffini Siamo due di due Mi sta appuntando Dai E dai Madonna Che palle di robo Due di due Due di due dai che forse vinciamo senza armi O almeno con le armi di Di m***a Ecco Morto uno Uno Due di tre Allora sono due team singoli Oppure sono un altro team Ma no Due di uno Due di uno Due di uno Cos'begno Ah bene bene Aspetta aspetta che mi curo un attimo Ma non ho neanche così Eh vabbè Allora dove starò Eh vabbè lag ovviamente Oh 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 Ma proprio alla fine devi colpire malamente Lag brutto stupid Ma va va Come de Cioè oh Non riesco a notare bene perché lag Oh Non è possibile Dov'è Dove staranno Boh Anzi dove sta Perché è uno No no Oh ho sentito gli spari Ho sentito gli spari No quello da me No quello da me E dai però Cioè ho preso il rampino E è sceso da solo Dai Dai E non riesco a notare Non riesco a notare E che cacchi Adesso sta proprio facendo Un coso pesante Uh l'ho visto l'ho visto L'ho visto l'ho visto Ma se sono dietro al muro Ero dietro al muro Ancora Ma se sono dietro al muro Come fa a ammazzarmi No 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 Non ci voglio credere Non ci voglio credere Lanciamo via tutto Lanciamo via tutto Anche le viti Il coso Il telefono Per fortuna lì Le batterie No Tutto No questo no Perché non lo voglio rompere Anche la pella Va bene Io concludo da solo Allora Bella Stufa Stufa elettrica Clandore stufo Ecco Ecco Come si chiama Ragazzi Volevate Che io vincesi Senza armi Almeno con delle armi Di m***a Volevate Ma volevate Veramente Peccato Abbiamo perso Abbiamo perso Eh vabbè Eh Ho distrutto mezzo mondo Però Ma niente Allora ragazzi Lasciate un mi piace Se il video vi è piaciuto Commentate Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E attivate la campanellina A fianco al tasto iscriviti E Seguitemi su Instagram Lo show di Ximix Trattino basso Official Link in descrizione Anche nel mio profilo Instagram E niente ragazzi Ovviamente Partita anche la cosa Avete visto E abbiamo perso Ho provato a giocare Con delle armi Di mercoledì E giovedì Venerdì E sabato E Vabbè raga Comunque Non mi resta che Salutarvi E Vederci in un altro video Vederci dal vivo Dipende Se siete vicini a me Oppure no Statemi bene Siete fortunati E ciao Raga Bella Raga La prossima consensus La prossima B B Bu 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 Grazie a tutti.